8 luglio 2010, ore 21.35. Questo che si vede è un tipico rogo, uno di quelli che parte all'imbrunire e poi adesso se ne aggiungeranno altri quando il buio sarà più fitto. La zona è nei pressi dell'ocean di Giuliano, qualche chilometro più avanti in direzione Lago Patria. Ore 21.30. 35 quasi. Nell'8 luglio 2010, questo video lo dedichiamo a Vincenzo Lozito, un maresciallo della Croce Rossa che tutte le Croce Rossi del mondo vorrebbero avere. Auguri Vincenzo. Grazie. Grazie.